Che bello, che bello, che bello Benvenuti a nuova stadio speciale Champions League con le milanesi in campo AC Milan is back, siamo tornati di nuovo a casa, finalmente siamo tornati A casa nostra, finalmente siamo tornati, lo mettiamo qua Tanto ci siamo a casa AC Milan is back, speriamo di ristarci Sì esatto Occhio Alexander Arnold, tirato da Salah, arriva fino in fondo Alexander Arnold, gol del Liverpool Con una deviazione, con una deviazione al nono, il Liverpool è già in vantaggio Alexander Arnold, Stuna in combinazione insieme a Salah Che l'ha lanciato in profondità, troppo troppo facile però Il fatto che Alexander Arnold sia arrivato fino in fondo, a pochi metri da Magnan Bravo Magnan Magnan che poi rimane a terra, non so perché Ipnotizza Salah, che gli tira abbastanza centrale Ma miracolo anche sulla respinta Rigoraccio Rigoraccio di Salah Rigoraccio di Salah, ho sentito il rigore, ho detto cos'è, gliene dà un altro Vinto è campionato, tutto è campionato, siamo a casa rossa, è piano, è piano, è piano Duolo, 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 duolo Duolo, 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 duolo D'incredibile pubblicità concilata con i tuoi voli in 2 minuti E' difficile ricostruire l'edificio in questo momento, va bene, doveva finire 7 a 0 il primo tempo, dai finito il primo tempo, bravi, doveva finire 7 a 0, siamo lì che abbiamo ribaltato tutto. Salah, anzi era Alexander-Arnold, Salah è adesso con la palla tra i piedi, attenzione allo scavetto per Salah che è davanti a Magnanede, occhio al fuorigioco, Salah fa così, non si capisce il motivo, tutti esultano, anche Salah adesso, Liverpool che pareggia con un'annesia questa volta della difesa del Milan, lo scavetto, diciamo che Gambaro aveva detto Salah peggiore in campo, non devi più parlare, fino a quel momento, angolo numero 3000 credo, non lo so, non lo ha contato, occhio, con la testa libera e poi il gol del Liverpool da fuori con Ederson, con il destro, dal limite dell'area, un destro perfetto, preciso, gran giocatore questo, gran gol, poi grande giocatore, però soprattutto questo qui a livello balistico ha fatto qualcosa di straordinario, imparabile per Magnanede, Dai, 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 metti bene, dall'ultimazione, dai, ti metti adesso, il tiro di Piazza, alto